Aggiudicato l'appalto dei lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine ad Agropoli, a giudicataria è risultata una ditta del posto per un importo complessivo di 624 mila euro circa. Il comune di Agropoli è risultato nei mesi scorsi destinatario di un finanziamento di 836 mila euro nell'ambito del fondo sport e periferie predisposto dal CONI. Il progetto prevede interventi di adeguamento e rigenerazione della struttura la cui prima inaugurazione risale all'anno 2008. Nel particolare i lavori consisteranno nella messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco laddove ad oggi c'è la terra battuta, verranno rifatti gli spogliatoi e la recinzione. Una volta completati questi interventi l'impianto sportivo potrà essere utilizzato per gli incontri ufficiali fino alla prima categoria. Questo permetterà all'impianto sportivo di rientrare a pieno titolo tra le diverse strutture pienamente disponibili ed operative presenti sul territorio. Con i lavori che partiranno a breve, afferma il sindaco Adamo Coppola, restituiamo dignità al Campo Polito. A breve la nostra città potrà contare su un'altra struttura sportiva che si aggiungerà alle altre già operative e tanto apprezzate. Inoltre dimostriamo che la periferia diventa sempre più centrale nel nostro operato quotidiano.